C'è allarme dopo la morte per legionella di un sessantenne presso l'ospedale Luigi Curto di Polla. L'uomo, originario di buon abitacolo, è deceduto domenica a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute. L'ASL ha disposto una serie di accertamenti in base ai quali è risultato che il caso non è frutto di infezione ospedaliera. Al fine di informare opportunamente la popolazione, ha precisato l'ASL attraverso una nota, si ritiene utile ricordare che per questo tipo di infezione non esiste alcun pericolo di contagio da persona a persona.